Vabbè ragazzi, mi vedrete? Allora, ricapitoliamo Piccolo Qua Comunque, leviamo queste cazzo Mi vorrei registrare Mi vorrei registrare Nella Playstation 2 È una merda Quello che non potete vedere Qua 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 la mia faccia si vede tagliata Perciò levate questa webcam Guardatemi a mezzo Qua dove c'è lo sfondo grande Tanto ci vuole Non lo tocca Lo tocca io, dai Non lo devi fare niente C'è quello del lago di stocca Non lo so Non serve per gioco No dai, ciccioverro Te ne sto facendo andare Calci in curso Ragazzi, oggi come avete letto dal titolo Il titolo è I cazzi mia Non so se Non ci vedo, adesso la condivisione Ragazzi Oggi faremo partite Sì, oggi faremo partite Subclash Royale con mio amico Ovviamente non vedrete Mi dispiace Ma mi vedrete No Comunque faremo amichevoli Fino a due E vediamo che il più forte Molto peggio Questi Molto peggio Che cos'è questo? No, vieni qua Vieni qua Ma grazie a cazzo Così vieni tu Non è vero No Dai, raga Non è vero Sono così Comunque ragazzi Oggi non lo so Faremo Chiederò al gruppo della scuola nostra Al gruppo della playstation 4 Vabbè su whatsapp Chiederemo alcuni Hai mai E poi faremo crash royale Chi non sa che cos'è L'hai mai challenge Qualcun Tipo Non l'hai fatto mai Ora Il mio amico Praticamente Mi dice È un esempio Mi dice Hai mai fatto il bagno E il latte Io risponderò Risponderò O sì o no È questo il concetto Non c'è un'altra O è più Facciamo un amico Qualcunque Ecco Facciamo prima Prima che scelgo Gli altri Vado a più Perciò Non esiste La cazzo è il mio Lo so Ti stavo guardando qualcuno Muori Dio Però dito che la vita è una vita La vita è una merda La vita è qualcosa La vita non è La vita non è Mi sta per andare Aaaaa 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 E voi andate Facciamo Erculo Ora vi faccio vedere il mio deck Con l'unica leggendario Com'è Indovinate qual è Martino L'amico che fa schifo E' contro lui Non è vero Io invece sono Colute o la cimitero La principessa E' il minatore Questo è il mio mazzo Che farei Di merda Come vedete Barbariscelti Scarica furia Goblin Goblin Lanceri Spiriti del fuoco Si mette il fuoco Appunto E' Mastino Malavico E' mongola E' ora vediamo pure il mazzo Di questo ebete Ah come te Allora Però ci mettero Non la usa Perché Non metto a fuoco Ok Abbiamo messo a fuoco Diciamo Allora guardate No aspetta aspetta Qual è Allora Barbari Torre inferna Che fate Ah no Quasi era spunto solo Dammi che non la se la passo 0 1 2 3 No 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 Non è questo Allora Faremo Vedere il mazzo Di Aspetta Ti sto rifacendo Dammi Sì Ora Facciamo Perché Quello Se ne va e viene Allora Questo No Basta Ci Allora Questo E' il mazzo Vabbè Ve l'elenco Barbari Torre infernale Minatore Principessa Orda di sgherri Gigante Streghe Spirito Del Ghiaccio Ragazzi Ho dato un colpo Moltissimo Alla telecamera Della playstation E' il bello Che era di Andrea Gliel'è finita E' un youtuber Molto professionista Per lui Che cazzo Lui è lo youtuber Che mette La fa No Non puoi prendere Non è colpa mia Guardatelo Che bello Ah Facciamo il tour Della mia camera No Allora Questa è la porta D'entrata Bu Beh Sono molto bello Questo è uno E non lo notate Questo è il letto Non Lasciate perdere Gli ossetti Nel muro E ha da sei anni Con questa camera Poi Quelle cose Là sotto Non ditemi Che cosa sono Qua c'è Il divano E qua Ci sono io Bordello Dai Iniziamo Che sa Una cosa Iniziamo Allora 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 Giochiamo Usa il mastino Lavico Mi guarda Mi guarda Facciamo Così Così Sì Aspetta Così Non puoi fare così Va bene Va bene Va bene Mettete Un po' Facciamo Così E così Ho preso la strega Ho preso la strega Felicità Ma mi prendete la strega Ma mi prendete la strega Ma mi prendete la strega E' morta No Di nuovo Ma proprio Non mori questo mastino Il mastino è la vita Il mastino inganna Il mastino è Il mastino può essere E non può essere Il mastino può essere tutto E non può essere E si vedete la cosa No io ho fatto molte hit non lo capisco è arrivato in torre la prince attaccano la principessa basta che si barbano sciolti figlio di merda vai ma te va 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 e vai mi ha messo il mondo non vale sei disonesto vabbè metti il cipollamo per fiere la mogla per te parlo ma vengola lasciate andare il messaggio è l'attività che lo chiamo ma vero tu non hai come no sì vabbè raga stavo giocando malissimo c'era messo in una posizione di merda ora giochiamo segnamenti ragazzi aspettate ragazzi che forse questo ci c'è raggiunga allora sarebbe figo possiamo fare così giochiamo con una mano gioco è appunto levate da qua mi senti toccolini di dio ma questi barbari uccidi la strega di carta con la strega e della stanza il mucio della stanza vai ah 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 aspettate ragazzi che trovi ma stavate come giocare vai io devo trovare una posizione ma stavate ma stavate ma stavate ti stavate tutta cosa ma è vero no no o forse si aspetta non posso fare tu è 5 metri no non è lo stavate vero che ora sono le mezzanotte le mezzanotte sono le 5 e 48 non so non so non so questo si ok poi andor ragazzi diciamo che giocherò bene si vede bene non mi prendo si vede bene si vede benissimo si vede benissimo si vede oh che ti vuole stare su un uccello così si gioca si non lo so che vuoi ragazzi ma c'è una cosa, per un momento non vedrete il soffitto, sentite solo il mio audio mentre lui è tipo una merda, lui è pronto a giocare a pesce, io, non tanto ci sono salito in aeronauta, a cura, io, sì, ci stavo salendo pure poco fa, non è vero? no, solo che mi hanno detto per tornare perché avevano tutte le altre, non ci sia, no, lo schifo sti tizi, ma è molto la mia cosa esce dalla terra? il cap che me ne fega? sì, io dico, cosa esce dalla terra? Eccolo che c'è, il caga me ne frega, ovviamente. E' il baffanculo! Muori! Ma le ha messi troppo, le ha messi male. C'è, le ha messi male. Gli spiri, sono morti tutti. Tutti gli spiri. Non lo so. Baci, corri via. Ma il cammino. Dillo il culo. C'è quello di cosa? Di copone. Dillo il culo. Ma il filo è inara! Dillo il culo, vinti il culo, vinti il culo, vinti il culo, vinti il culo. Sono morto, sono dimostri. E' un morto. Oh, bitch! Get off the way! Get off the way, just get off the way! Tienas corretto via! Tienas corretto via! Aii! No! A B B B B B B B had to rivea come nos! Amiga braccio! Amiga braccio! nooo la mia vabbè vabbè non ha la torre dai no mi ha zappato la mia zappa eh ragazzi si mettono a cuocere tutti quanti guarda che è bellissima Tommy lei mi hai fatto battere la testa con il rumore guarda che scuola guarda che scuola forte ti dice una bella rena e mi devi indovinare che arena hai uno non è che tu è uno ma allora è già zaccato è stato un uomo è stato un uomo uno grazie arena uno eh ma ti ho detto il nome preciso che era stato un uomo puoi uscire da questa cosa ci credi che io ci sono stato in arena 2 ci sono stato una mare io volevo provare a salire a Gis non ce la facevo secondo me era una due e la dovevano mettere all'ultimo guarda il barbaro scelto della fede vai ma chi ti ha fatto? mia madre ha fatto un porco ancora tu non ti ha smaccato il pezzo ma il tuo pane non è un porco aia no ho detto tua madre non è un porco si poi ti ho visto con la faccia e allora non c'è niente la faccia no vero sei vero dove siete che hai mangiato? sto cazzo ah no ah quindi ti piace no non lo so non lo so non lo so ehm io ti piace il nostro ehm ehm mi ha stuprato la torre Con le ali nel cavolo In questo caso la campagna sarebbe lui Che ha perduto la campagna Ha perduto Ha perso L'italiano corre giù Corre giù Tito che tu hai preso dei quattro Vabbè ma io più bravo di tu ci sono Non è vero In alto si Se facciamo una gara di disugno Ficco io Si C'è uno che ci sta guardando Alibaba 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 ci sta guardando Anello Non ci può mettere Alibaba E' con bilanciane Ma che avete questa cosa che lanciate Che non mi avete avvicinato alla terra L'attaccata così No Sì Sì Povero gabbiano Sulla vetta di sto cazzo Il gabbiano che me volerà Il gabbiano Il gabbiano Il gabbiano volante Oh io proprio devo passare la storia Il gabbiano volante Il gabbiano Il gabbiano Il gabbiano Il gabbiano sempre è lui Il gabbiano Gabbiano Aspetta Ragazzi mi faccio Il gabbiano Il gabbiano Il gabbiano Il gabbiano Guarda gabbiano goblin l'alto perché sono tagliate dai in vita mi scarso che mi hai perduto la compagna ma non posso vedere ma non posso dire ma io sto con lei ma non lo hai ma sai che stavo guardando e non c'è nessuno a Peppa è entrato Dami chi è Dami? è in allenato come c'è il primo posto di me di fanno è tutto peggio che in allenato a voi che cazzo li cazzi non ce la vuoi per quanto messo l'altro ma solo allora 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 si vabbè da allora quanta cosa è da allora Massimo? cosa? la cosa è una cosa? si si cosa è una cosa è una cosa vabbè quella cosa hai capito cosa? qual è la cosa? qual è la dove si mette le due in realtà? la loro non c'è più una crisi come vuoi dire? come vuoi dire? come vuoi capito? ma perchè sono i barboli? ma sono andato insieme si questo è un altro che impiuti ma dove fa? no vai vila torre vada piano un cazzo che mi fa il culo no che c'è questo è morto che cazzo è morto? che cazzo è morto? che cazzo è morto? che cazzo è morto? no 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 alabà alakbar alakba 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 ai aaaaa 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 alakba dai e ah 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 lựte weight lo so vabbè non si rompe e mi avete fatto perdere a clash non sono arena 2 era amiche non vi preoccupate allora facciamo il fatto e allora era lei mai vediamo l'ho scritto su whatsapp ai gruppi allora la prima è c'è la chiede giuseppe nei gruppi di whatsapp allora hai mai mangiato i cereali senza latte sì se c'è non sempre quando capitano l'altra dov'è hai mai dormito per terra due volte tre volte vabbè tu vai scout io poi hai mai dormito a casa di un compagno ragazza anno però cosa e allora ha mai cucinato per tua madre sì diciamo nuovo io basta comunque sei mai andato al lavoro con tuo padre no io no poi hai allora hai mai partecipato a una gara cioè a una gara di scorraggio no come si chiama quella che poi alla scuola dipendono la corsa campestre la corsa campestre no io sì forse la devo fare io ho stude lento ma vedi che quella vede la resistenza lo so poi questa una persona ci chiede qual è il tuo amico preferito cioè hai mai baciato il tuo amico amico no allora facciamo sia maschile sia famiglia amico no amica se passiamo alla prossima passiamo alla prossima ma in guancia si lo so ovunque come voi hai mai pesciato in mezzo alla strada no 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 sì con le palle io dico sì perché sì poi vabbè l'altra hai mai caricato in mezzo alla strada no 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 ho mai detto parolacce no 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 ma che cazzo di ascolare diciamo poi vediamo una bella sto scegliendo con la pelle hai mai dormito con tua madre e credo di sì da bambini da piccoli credo un po tutti due anni tre anni come al lavoro credo tutti poi allora cosa finite quelle belle si spettatore scrivono e mai qualsiasi chiunque tu sia scrivono e mai se te ne vengono in mente noi felice perché la ricamara un memoria io ciò non sai mai c'è sa obbligo verità però la facciamo torriamo dai dai ai 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 come va la vita e lo pure a me ragazzi non so se porterò tipo blog da nascosto a scuola domani quando facciamo educazione fisica come metterò il telefono in mezzo alla tuta non lo so un buco dove vuoi fare le cose buono so che ci penserò ditemi come vanno sti capelli dai ragazzi c'eri ma non ti vado a parlare messaggio ma non ti sto messaggiando nessuno te che ti caga sei andato visto per colpa tua c'era uno che guardava chi è oh god adesso fai per favore si uuuu 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 impinato sarà quella ragazzi non sono troppo allargolo grazie la prossima volta faremo i video così perché sono troppo sexy c'era che da 1 a 10 quando sono sexy 11 quando si sbrigherebbe il mio amico a scaricare sta cazzo di obbligo verità maggio e se ne va ogni volta che sento l'obbligo verità non so di picciare il viola dai si è fatto allora inizia tu facciamo cinque domande ma è strano è strano quello primo bambini fammi vedere no 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 fammi vedere la difficoltà io mica faccio un altro modo qual? è una soprannoma vabbè no e basta che iniziamo sta challenge siamo da mezz'ora a non fare niente adatte ai bambini fammi vedere vieni mettiti qua e vedi bambini sì vado no bambini e ragazzi ragazzi no aspetta se metto no cioè bambini e ragazzi o estremo ragazzi ragazzi tommaso obbligo o verità verità vabbè facciamo solo verità no no sì perché non hai rotto con il tuo ultimo ragazzo o ragazza allora perché te l'avevo lasciato il peso e non hai fatto questo allora praticamente stavo messaggiando su facebook e io ho scritto praticamente poi c'è dove abiti se voi ci conosciamo bene ancora mi ha scritto no già sono impegnata ora finalmente forse dai vai verità verità qual'è la cosa più azzardata che hai mai fatto nel pubblico conoscerti no dai allora svelare i miei trucchi per disegnare bene cosco svelare i miei trucchi per disegnare bene come se oggi sono già me veramente veramente la mia è stato per sbaglio toccato il culo a una termina lexi ma no sempre io mi è toccato è una verità se avessi solo i giorni cosa sceglieresti perché siamo su dragon ball allora avere tanti soldi avere tanti iscritti non averti più sulla faccia della terra no scherzavo avere una vita come dragon ball no vabbè allora la mia sarebbe avere altri tre desideri vabbè ehm vabbè a dire non ha desideri avere un milione di dollari e soldi finchè appena mi finiscono di nuovo viaggiare il tempo poi andare tanti iscritti e continuiamo sempre così tabla la sua vita la sua vita e mi sento la mazzone qual è stato il giorno per giorno della tua vita quando è cominciata la scuola il giorno più brutto della mia vita è stato praticamente quando ho conosciuto l'esistenza della scuola sono rimasto traumatizzata qual è la cosa più imbarazzante che ti sia mai successo in pubblico? prima o tu? arriendo prima o tu? la cosa di più Aveva imbarazzato, imbarazzante, è stato che mi sono dovuti i pantaloni anche con me. A noi prima c'era uno suo compagno, che questo era proprio un gretino, è tornato, era in bando, è tornato, senza pantaloni, senza montagne, gli ha detto che lo aveva messo, ma adesso non le puoi allacciare ai pantaloni. Ma che elementare? Prima. Ci sta. Ma no, che... Qual è il voto più basso che hai mai preso a scuola? Te lo sto facendo. Trenografia. Quello? Quante? Ehm... No, un po' di gasta. Ancora... Quando io non c'ero. No. Questa volta quando eravamo tutti in ansia e pioveva il gio... e sua moglie giocava al calcio. Indica la persona che potrebbe mangiare altre persone... Però ti avvicini che non ti sento, non ti avvicini. Allora, indica la persona che potrebbe mangiare altre persone per sopravvivere alle... con... Roberta. Roberta. E quanto sia il saccia? Tradotto in italiano. Roberta e quanto questa stanza... Mi sfondo su cosa. La da inquadrare. No. No. Allora... Usciresti mai con una persona del tuo stesso sesso? Allora, uscire in che senso? Andare a mangiare tipo una pizza? O tipo... Ci sono capiti? No. Vabbè, a mangiare una pizza. A mangiare una pizza? A mangiare una pizza? Sì. Dai. Non so, mi devi fare la domanda. Chi è il cuoco peggiore che conosci? Carlo Cracco. Anzi, mia madre. Anzi, mia nonna. Anzi, tutta la mia famiglia. Vada. Hai mai fatto pipì in e piscina? In? Piscina. Cosa? Pipì. Non si possono contare quante volte. Mi ho fatto così tanto che l'acqua era gialla. Ma vabbè la parola in piscina, no? Come? E per... E per... E per... Per diventare tutta gialla. Raccontaci una tua storia da inviare. Allora, ero dai miei nonna il capodanno del 31 dicembre del 2014. E mi ero bevuto un po' il vino. Ma io non ho fatto. Quando mi ho potuto tornare io ero bravo. Ma non mi piace. Allora, hai mai fatto il girare una... Certo. A proposito? Certo. Allora. Allora. Fentare. Ti metto un obbligo. Vedi come cosa... Se sei brutto non so. Ma no. Ma no. Vai metti i flessioni. Non lo posso fare. Sì. Te ne prendo io. No 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 no. Tu care. Vabbè no 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 no, faccio un'altra non stai. no per il resto della partita devi terminare tutto quello che dici però non hai visto una finta tipo in questo modo ogni volta che diciamo una cosa in questo modo cosa preferisci stare insieme a qualcuno che non ne ami a stare con qualcuno che li ama no alla fine è tutto alla fine con lei cosa devo fare alla fine che ho letto tutto devi dire nooo che cos'è cosa preferisci stare insieme a qualcuno che non ami o stare con qualcuno che non ti ama allora dipende se quella è bella che non mi vuole io mi metto con lei oppure poi l'altra se era che lei mi vuole ma io no la prenderei lo stesso raga è così va bene te la pigli o te la pigli qual è stato il momento più spaventoso della tua vita quando una volta ero solo a casa dopo cinque anni io ho visto una figura nera io una volta a tre anni ho sentito una voce nell'estate io che andavo a mia madre e non ce l'avamo dicendo ragazzi ragazzi ho solo per poi mettere un favij vada vada metta favij tu prendi i libri di storie che mia madre se non torna a prendi i libri di storie con la mia mazza io ho detto che sono andato a fare con eh all'inizio ma gli hai detto tutti i compiti che c'erano si si io ho detto solo storie ah appunto c'è grammatica lo diventi che per casa e i 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